Ed è dunque arrivato il momento di metterci sotto la grande stella bianca qua in piazza Bra a Verona. È arrivato il momento degli auguri di fine anno e gli auguri anche di un nuovo anno. Che sia felice e sereno, diciamolo subito, e all'insegna della salute. Ma noi andiamo in onda, vacanza non si fa. Difatti, vedetelo un po' con il sommario di questa puntata. In questo numero, buon anno, è quello che ci augura il Vescovo di Verona. Botti di fine anno e alcol, fattori di rischio delle festività. Guadagnare salute con le ricette dei dietisti. L'agroletta, un clubhouse terapeutico e riabilitativo a rivoli veronese. Auguri, i due assessori veneti alle politiche sanitarie e sociali augurano ai veronesi il loro buon anno. Allergie, anche il trucco può causarle. Vino, come riconoscerne la qualità per brindare in salute.